La scoperta dei gruppi sanguigni è stata una delle più importanti per la medicina, poiché ha aperto la strada alla scienza delle trasfusioni, cosa che ha permesso di salvare innumerevoli vite. Tale scoperta è stata necessaria in quanto mischiare gruppi sanguigni incompatibili tra di loro può portare a conseguenze gravissime, spesso fatali. Ma quali sono i meccanismi dietro a questo processo? Tutte le cellule viventi, umane e non, possiedono sulla loro superficie delle molecole denominate antigeni. Queste sono molto diversificate tra di loro e svolgono funzioni diversissime. Riconoscimento di altre cellule, recezione ormonale, scambio di nutrienti, segnalazione, attività di risi per altre cellule e così via. Questi antigeni spesso sono univoci per ogni tipo di cellula, per cui rappresentano il bersaglio contro cui vengono prodotti eventuali anticorpi da parte dell'organismo. Entrando nello specifico, i globuli rossi, ovvero le cellule responsabili del trasporto di ossigeno ed anidride carbonica, possiedono diversi tipi di antigeni sulla loro superficie. Uno di questi, in particolare, è costituito nella sua parte terminale da una catena polisaccaridica, ovvero costituita da diversi zuccheri, 5 nello specifico, denominata sostanza H. Tale sostanza vedrà nella sua parte terminale la presenza di un ultimo monosaccaride che sarà posizionato da uno specifico enzima. Quest'ultimo viene codificato a partire da una sequenza genica contenuta nel cromosoma 9 e ne esistono tre varianti. La prima, denominata 1A, codifica per un enzima che apporrà alla sostanza H un monosaccaride denominato alfa-n-acetil-d-galattosammina. Il gene 1B porterà invece alla posizione di alfa-d-galattosio, mentre il gene 1-0 è una variante mutata che non porterà alla presenza di nessun monosaccaride, lasciando quindi la sostanza H scoperta. Quindi, penso abbiate già cominciato a comprendere, nel primo caso si avrà la comparsa di sui globuli rossi di antigeni di tipo A, quindi saranno di gruppo A. Nel secondo caso saranno antigeni di tipo B, per cui verranno chiamati gruppo alfa-5-sigma-delta. No, sto scherzando, saranno di gruppo B. E nel terzo, un antigene che non sarà né A né B e quindi darà il gruppo 0. In aggiunta a questi, qualora un individuo possiede entrambi i geni 1A e 1B, essi verranno espressi contemporaneamente e quindi si avrà un gruppo sanguigno denominato A B. Ok, questo spiega l'esistenza di diversi gruppi sanguigni, ma perché mischiarli porta a risultati tanto indesiderati? Voglio dire, non possono allegramente convivere nello stesso spazio in attesa che ne vengano prodotti di nuovi? Beh, non finisce tutto qui. La comparsa di tali antigene, infatti, si avrà la corrispettiva comparsa di anticorpi nel siero del paziente contro l'antigene non presenza. Di conseguenza, un gruppo A possiederà nel proprio siero anticorpi anti-B, mentre un gruppo B possiederà anticorpi anti-A. Un gruppo AB non avrà nessun tipo di anticorpo relativo, mentre il gruppo 0 presenterà anticorpi contro entrambi gli antigeni. Ed è qui che si scela il mistero della compatibilità tra gruppi sanguigni. Se ad esempio iniettiamo del sangue di gruppo A in un paziente di gruppo B, gli anticorpi anti-A di quest'ultimo si legheranno ai globuli rossi di tipo A che sono stati appena inoculati, e questo provocherà la cosiddetta emagglutinazione, che porterà alla formazione di trombi, ovvero coaguli all'interno dei vasi sanguigni che ne avranno la capacità di occluderli, con conseguenze assolutamente disastrose. Potete quindi comprendere anche perché il gruppo 0 è definito donatore universale, ovvero perché non avendo antigeni sui globuli rossi non susciterà nessuna risposta del sistema immunitario nel ricevente. Al contrario del gruppo B, detto invece appunto ricevente universale, poiché non avendo anticorpi contro questi tipi di antigeni può accettare qualsiasi tipo di antigene e di conseguenza di gruppo sanguigno. Manca ancora un dettaglio però, tanto per cambiare. Esiste un altro tipo di antigene denominato antigene D, o fattore RH, da Macacus reus, la scimmia in cui venne scoperto, la cui sequenza genica è localizzata sul cromosoma 1, non della scimmia, del fattore RH. A seconda dell'assetto genico, un individuo può presentare o meno tale antigene e quindi il soggetto sarà RH positivo oppure RH negativo, il quale, seguendo la stessa logica degli antigeni AB, presenterà anticorpi anti-RH che lo obblicheranno a ricevere solo sangue da persone RH negativo. Tornando al sistema AB0, è possibile in alcuni casi che un soggetto, pur presentando un genoma di tipo A, B o AB, all'analisi dei globuli rossi su di essi risulterà essere di tipo 0. tale evenienza, denominata fenotipo Bombay, è dovuta a una mutazione che porta all'assenza di un enzima che appone l'alfa L-fucosio, una componente della sostanza H. Tale alterazione renderà quindi impossibile la posizione dei monosaccaridi terminali e quindi la formazione degli antigeni A e B, indipendentemente dall'assetto genetico del soggetto. E anche per oggi abbiamo concluso, spero sia stato istruttivo e di vostro gradimento, in caso affermativo mettete mi piace ed iscrivetevi al canale, questo mi dice che sto facendo un buon lavoro, e non dimenticatevi di seguirci anche su Facebook e su Instagram e se vi piacciono i nostri design potete trovare queste belle magliette nel link sottostante. È tutto per oggi, alla prossima!